martedì 3 gennaio santa genoveffa è il terzo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 362 al termine il sole sorge alle 7 50 tramonta le 16 40 la luna si vale 13 48 tramonta le 4 e 44 allo scopo di mettere freno l'eccessivo costo dei libri il senato veneto decreta che i tipografi sottopongono ogni opera stampata all'apposita magistratura che ne stabilirà il prezzo commisurandolo sia il costo materiale del libro sia il pregio del contenuto le previsioni per domani cielo sereno poco nuvoloso per passaggi di nuvi medio alte maggiori addensamenti in pianura dove saranno probabili foschie o locali nebbie specie nelle ore più fredde temperature minime in diminuzione massime stazionarie o in locale lieve variazione